Ciao a tutti, sono Renoceronte, come potete vedere è buio? No, sarà il nostro primo video in 3D, mi hanno consigliato questo stupendo gioco e mi accingo a portarlo avanti questo video segnerà l'inizio di una serie di video in 3D ma non abbandoneremo ovviamente l'8bit, quindi non preoccupatevi è un gioco horror, spero di non farmelo addosso, vediamo il gioco si chiama 1916, è ambientato ovviamente durante la prima guerra mondiale in quell'anno noi mi pare che entriamo in guerra con la Germania ma mi sembra, non ne sono sicuro e molto particolare ovviamente il titolo del gioco esatto è troppo tardi, comunque 1916 parlo inglese io allora, controllen uno due bzzzzzzzz shoot, ok, allora no spraceno, start laden bin laden ok, fin den leiten che ovviamente vuol dire saluti da mamma ma si pronuncia ATTA DA va bene ci muoviamo per le trincee e se vado indietro? niente vicolo cieco non posso sparare, non posso fare niente posso solo andare avanti sarà bene andare ok ovviamente nel 1916 tutto il mondo era in bianco e nero questo si sa, è un fatto storico ma e devo dire che questo videogioco rispetta è un videogioco indie è scaricabile gratuitamente cosa sono? niente, lattine beh beh, almeno gli effetti sonori sono rispettati vieno di qua bene, mi piacciono i piccoli ciechi a quanto pare c'è un quello era un veloci raptor sì anche in questo potete notare che l'attendenza storica è perfetta anche se a dire la verità proprio i veloci raptor in quegli anni combattevano per la Francia perché c'è una mano? io e sì ok ci sono dinosauri niente dice così oh hey grazie per la mano ma adesso niente niente andiamo era per essere sicuri piccolo cieco allora cos'è? natalie andiamo da natalie aaaaaa corri sto mano vai mangia mangia vattene aah guarda guarda raffin andiamo ok l'ultimo veloci raptor che ho visto riusciva ad aprire le porte delle cucine questo invece è in armatura grazie della mano figliolo aah e mo? ah cos'è? un'altra mano? ah cosa mi darà adesso? ah giustamente è sparito è sparito uh veloci raptor col teletrasporto ottimo andiamo non cicciare fuori all'improvviso non cicciare fuori all'improvviso è lì ah oh ahi no cacca ma non mi ha seguito ah sì ok finirà gli arti prima o poi quest'uomo waffen waffen allora no e e io sono l'uomo tu sei la macchina e no ho finito i pezzi di ho finito i pezzi di cadavere ma ha un altro piede questo no non ha un altro piede quest'uomo ok no no mangia il cadavere mangia il cadavere no lasciami ah mangia il cadavere ah no mi colo cieco via 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 noo un'altra vittima della prima guerra mondiale vabbè riproviamoci i rinocenuti non si muovono bene questi spazi angusti le latte niente spero che al tizio siano ricresciuti mani e piedi bene si cacchio ridi ho preso un piede stavolta allora andiamo di qua ehi yoshi 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 no volevo fare l'idraulico fai dal piede vai dal piede ce l'ho fatta no papà allora fin del lato andiamo non si può correre in questo gioco non c'è un tasto per uccidere i velociraptor con un colpo e soprattutto perché i velociraptor cioè se noi siamo entrato in guerra con i tedeschi nel 16 vuol dire che i velociraptor sono nostri non ci vedo molto un italiano cavallo di un velociraptor ci divertiamo a staccare arti a questo pavero tedesco ok manina non torniamo indietro andiamo di qua facciamo così e via via natali natali ha funzionato sì ha funzionato yeah luisa o claudia luisa o claudia luisa o claudia claudia andiamo casse casse niente cosa ci tengono qui king kong oh roba strana cos'è sembra no sembra un sorbetto al limone va bene andiamo col mio calippo c'è claudia bunker andiamo al bunker oh bene non dovevo girarmi ho perso il stesso orientamento no andiamo di qua attenzione con un calippo ho un calippo contro i tirannosauri no i veloci raptor uh posso staccare la mano sì bene mi sento più sicuro con la mano ok ok poi vi racconto cosa dice no ah mangio la mano calippo ma questo è un tank bene un bunker un fucile no non è fucile ok grazie al cielo allora non si può eliminare no niente allora il mio caro amico Hans ha scritto il suo caro amico Fritz che ha bisogno di chiaramente di un chiropratico e dei piedi anche dove sono sono nel bunker sono lì e io devo andare la letter bene quindi sinistra sinistra dritto sinistra non me lo ricorderò mai c'è il gas va bene andiamo almeno smettesse la cacchio di canzone spara stupida tecnologia del 1916 devo ricominciare all'inizio beh direi che come primo tentativo in 3d ci può stare vive dinosauri o a morte velociraptor e soprattutto il film Rappen palca ok prego ok pot ottenere nei